Il generale Emilio Enrico è stato nominato commissario straordinario delegato a coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone, Cassano e Cerchiare. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri e ufficializzata con la firma del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'incarico del generale Enrico avrà una durata di due anni, con la possibilità di essere prorogata per altri 12 mesi in caso di ritardi dovuti a cause non imputabili alla struttura commissariale. Il generale Enrico è un ufficiale della Guardia di Finanza ed è già stato commissario dell'ARPACAL e in passato ha ricoperto il ruolo di commissario dell'autorità portuale della Sicilia orientale. Il suo compito principale sarà coordinare ed eseguire gli interventi e le fasi progettuali, preparare i bandi di gara, assegnare servizi e lavori per la realizzazione delle opere di bonifica, garantendo anche la congruità dei costi. Inoltre dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente, entro sei mesi dalla sua nomina, un piano di interventi completo di cronoprogramma. Ogni sei mesi verrà richiesto al commissario di inviare una relazione al Ministero sull'andamento delle attività svolte o in corso. Nel decreto di nomina è previsto anche il trasferimento di ulteriori risorse economiche alla struttura commissariale, pari a quasi 31 milioni di euro, che saranno erogati in due tranche in base all'avanzamento degli interventi programmati.